Don Basilio, cosa vengo? Quale intoppo? Come qua? Servitor, servitor di tutti i tuoi. Che vuol dire che non mi ho? E direi che voi sarà, mi franchezza ci vorrà, mi franchezza ci vorrà. Don Basilio, come state? Come sto? Orchè si aspetta questa barba benedetta, la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo, la facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo. Il curiale, il curiale. Io gli ho narrato che già tutto è combinato, non è ver? Sì, sì, tutto io so, tutto io so. Ma Don Bartolo, spiegatemi. Ehi, dottore, una parola, ehi, dottore, una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un po' qua. Son da voi, son da voi, ascoltate un po' qua. Fate un po' che vada via, che ci scopra un gran timore. Ehi, mi sento ancora tremare, non vi state a disperare. Della lettera, signore, ehi, la fara ancora non sa. Ma qui certo per un pasticcio non arrivo a indovinare. Ehi, ci scopra un gran timore, ehi, la fara ancora non sa. La far non sa, la far non sa, la far non sa, la far non sa. Con la febbre, con la febbre Don Basilio, Chi vi insegna con la febbre a passeggiare? Con la febbre, che vi pare, siete giallo come un morto. Sono acciallo come un morto. Bagatella, cospettone, qui tremarella, bagatella, bagatella, tremarella, tremarella. Questa è sempre salatina, scarlattina. Vi apprendete medicina. Vi apprendete medicina, non vi state a rovinare. Presto, presto, andate a letto. Voi paura impermi fate. Dici bene, andate a letto. Presto, andate a riposare. Presto, andate a riposare. Una borsa, andate a letto. Ma che tutti, ma che tutti siano da bordo. Presto il letto, 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 presto il letto. Che colore! Che brutta c'era! Brutta c'era! O brutta sei! Dunque fanno! Fanno! Fanno!